La Guerra delle Folkland, un conflitto per il controllo di un remoto arcipelago la Guerra delle Folkland, conosciuta anche come Guerra delle Malvine, fu un conflitto armato combattuto tra Argentina e Regno Unito tra aprile e giugno 1982, per il possesso delle isole Folkland, della Georgia del Sud e delle isole Sandwich Australi. Il contesto storico, le isole in questione, situate nell'oceano Atlantico Meridionale a circa 400 miglia dalla costa argentina, erano state oggetto di una disputa di lunga data tra i due paesi. L'Argentina rivendicava la sovranità sulle isole fin dal 1833, mentre il Regno Unito le amministrava come territorio d'oltremare dal 1839 sviluppo del conflitto. Il 2 aprile 1982, le forze argentine invasero le isole Folkland, scatenando la guerra. La reazione del Regno Unito fu immediata e decisa. Una task force navale britannica fu inviata nell'Atlantico Meridionale con l'obiettivo di riconquistare le isole. Svolgimento della guerra, lo scontro durò 74 giorni e vide una serie di battaglie navali, aeree e terrestri. Le forze britanniche, nonostante la distanza dal teatro di guerra e la superiorità numerica argentina, prevalsero grazie al loro equipaggiamento più moderno e alla migliore organizzazione militare. Momenti chiave, del conflitto 2 aprile 1982, invasione argentina delle isole Folkland. 5 aprile 1982, la Royal Navy impone un blocco navale intorno alle isole. 2 maggio 1982, sbarco delle truppe britanniche a Port Stanley, la capitale delle isole. Giugno 1982, resa delle forze argentine conseguenze della guerra. La guerra si concluse con la vittoria del Regno Unito e la riconquista delle isole Folkland oltre 900. Persone morirono nel conflitto, la maggior parte argentini. La guerra ebbe un impatto significativo sulla politica interna di entrambi i paesi. In Argentina, la sconfitta portò alla caduta della giunta militare e al ritorno della democrazia. Nel Regno Unito, la vittoria rafforzò il consenso attorno al governo di Margaret Thatcher. La guerra delle Folkland rimane un tema controverso, con forti sentimenti da entrambe le parti. Tuttavia, ha anche portato a un maggiore dialogo e cooperazione tra Argentina e Regno Unito negli ultimi anni. L'eredità della guerra La guerra delle Folkland è stata un evento significativo nella storia di entrambi i paesi e ha lasciato un'eredità duratura. La guerra ha dimostrato l'importanza della forza militare per la difesa dei propri interessi nazionali e ha sottolineato i rischi del nazionalismo e del militarismo. Dopo le vittorie britanniche nelle Folkland, la situazione ha avuto diverse conseguenze. Punto ritorno al controllo britannico, le isole Folkland sono tornate sotto il controllo del Regno Unito. Questo ha rafforzato la posizione del governo di Margaret Thatcher e ha dimostrato la capacità britannica di proiettare potenza militare anche in una guerra a grande distanza dalla madrepatria. Cambiamenti politici in Argentina la sconfitta nella guerra ha portato a un crescente dissenso in Argentina contro il governo militare, guidato dal generale Leopoldo Galtieri. Questo evento ha contribuito alla fine del regime militare e al ritorno alla democrazia. Punto impatto sulle relazioni internazionali La guerra delle Folkland ha avuto un impatto significativo sulle relazioni tra Argentina, Regno Unito e altri paesi. Ha sollevato questioni di sovranità, sicurezza e cooperazione internazionale. Punto memoria e commemorazione. Le vittime della guerra sono state commemorare da entrambi i paesi. Delle Folkland durante la guerra del 1982 e le principali battaglie furono Battaglia di San Carlos, le forze britanniche sbarcarono a San Carlos Water il 21 maggio 1982, subendo pesanti attacchi aerei e navali da parte degli argentini. Nonostante le difficoltà, i britannici riuscirono a stabilire una testa di ponte. Battaglia di Goose Green il 28 maggio 1982, le forze britanniche sconfissero le truppe argentine a Goose Green, liberando gli ostaggi britannici e consolidando il loro controllo sull'isola. Beatty Titiaglia di Mount Tumbledown e Wireless Ridge, il 13 giugno 1982, le forze britanniche lanciarono un attacco notturno contro le posizioni argentine su Mount Tumbledown e Wireless Ridge, ottenendo una vittoria decisiva. Battaglia di Port Stanley, il 14 giugno 1982, le forze britanniche circondarono la capitale delle Folkland, Port Stanley, costringendo le truppe argentine alla resa. Questo segnò la fine della guerra. Appunto queste sono solo alcune delle principali battaglie, ma la guerra coinvolse molte altre operazioni militari e scontri.